Ehm, c'è un chat che mi arriva in culo. Viva. Omae wa mou shindeiru. NANI! AAAAAH! HAHAHA! AAAAAH! Tempo di baitare un aero sulla mia base. Farlo fagare dal contrario. Aha. Aha. Si si. Va bene. Ma quanto è bello un po' fare da migli aerei. Oh. Dicchio. Si è proprio incazzato con gli aerei. Aha. Ha 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 ha. Ehm. Enfantare un po' di caso. Appare a noi. C'è un po' di caso. Aire. Ma. 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 Grazie a tutti.